A due mesi esatti dal voto per il rinnovo di Camera e Senato, il Movimento 5 Stelle calabrese si è ritrovato alla mesia terme per programmare la prossima campagna elettorale. Riunione plenaria coordinata da Massimo Visiti, che ha visto anche la partecipazione in remoto del Presidente del Movimento Giuseppe Conte. Un summit già calendarizzato 20 giorni fa, prima della crisi e della conseguente caduta del Governo. Dignità e passione per la politica, questi capisaldi portati avanti anche il secondo al terzo mandato, così come in tanti vorrebbero, ma che anche su questa diatriba si è espresso il leader storico Beppe Grillo. Noi abbiamo indetto questa riunione chiaramente 20 giorni fa per riorganizzare la necessità di una forma politica e partitica di essere presente sui territori. Gli eventi che si sono succeduti nell'ultima settimana hanno imposto chiaramente di parlare anche di campagna elettorale. Sicuramente sarà un buon motivo quello di incontro oggi qui alla Mezza per che si possa fare anche questo tipo di percorso e di discorso. Noi abbiamo in questo momento le primarie che si chiuderanno questa sera, ad ora c'è già un 30% di percorso comune condiviso con il PD. Vero è che il nostro Presidente Conte ha detto che quello che succede a Roma si fa anche nei territori, ma altrettanto vero è che le chiusure che abbiamo avuto da parte del PD sono agli occhi di tutti. Quindi è un percorso in evoluzione, non c'è stata una chiusura totale, ma anche se le dichiarazioni fatte e pubblicate oggi lasciano ben poco sperare a un percorso condiviso. In questo momento noi abbiamo nel gruppo 5 Stelle due parlamentari che sono alla fine del secondo mandato, che sono l'onorevole Dieni e l'onorevole Parentela. Loro sono stati fedeli e hanno seguito fino adesso tutte le indicazioni del Movimento 5 Stelle. presumo che seguiranno ancora quelle che sono le indicazioni che sono state date. Quindi non abbiamo tentennamenti da questo punto di vista. Per quanto riguarda il percorso che sarà stabilito a livello nazionale, penso che sia ormai definito anche a livello nazionale questo indirizzo. Grazie. 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 Grazie.